Roma Inter due a quattro ci hanno fatto soffrire ma ci siamo divertiti queste sono le vittorie che contano queste sono le vittorie che pesano e pesano tantissimo all'interno di un campionato come quello che l'Inter sta meritatamente dominando siamo nel post partita e come sempre andiamo a dare tutti insieme le pagelle i voti ai giocatori dell'Inter scesi in campo stasera lo facciamo con il nostro tier maker cinque fasce per andare a inserire quindi le valutazioni dei calciatori dell'Inter partendo dall'MVP per il migliore in campo quello che reputiamo il migliore di questa serata top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per quelli che sono sulla sufficienza mentre andiamo nei rimandati per chi è sotto la sufficienza e flop per chi è andato particolarmente male partiamo da Jan Sommer Jan Sommer che è stato decisivo sicuramente in questa partita c'è tanto eh del nostro portiere eh su su questa gara perché fa un grandissimo intervento sullo zero a zero con eh la mano di richiamo sul tiro di di El Sharawi all'inizio eh sui gol non ha troppe responsabilità sul primo c'è una dormita difensiva di un altro colpevole secondo me sul secondo so El Sharawi trova il gol dell'anno del decennio la mette lì in maniera imparabile e poi fa un grandissimo intervento su Lukaku decisivo in uscita bassa secondo me però c'è un giocatore che merita un voto più alto per cui Jan Sommer è il primo dei top anche stasera meritatissimo ehm andiamo avanti eh con la difesa Benjamin Pavard stasera purtroppo Pavard ragazzi è una partita dai due volti un po' un po' come tutta l'Inter sostanzialmente perché eh sul primo gol ha evidenti responsabilità è una distrazione di tutta la difesa e di Pavard in particolare Mancini era il suo uomo e se lo perde e e sul due a uno stringe un po' troppo poteva andarlo a marcare meglio e mh e del Sharawi segna c'è da dire che nel secondo tempo si fiore il gol clamoroso con un palo enorme eh in fase offensiva anche oggi si è proposto molto si è rilanciato bene nello spazio è andato a fare il cross molto bene e diciamo che è una media tra primo tempo male secondo tempo che si è ripreso se vogliamo dargli un voto complessivo stasera sul rimandato ci può stare perché comunque in una notte così importante sui due gol lo zampino c'è e si può fare meglio per quanto poi anche oggi la sua partita se la porta a casa nel complesso e palo enorme avesse segnato quel gol sarebbe finito inevitabilmente nei top perché era un gol pesantissimo a cerbi a cerbi a me è piaciuto eh ha completamente annullato Lukaku non ehm io Lukaku non me lo ricordo in attacco quando c'è stato a cerbi sostanzialmente eh trova anche un gol ehm un gol tra l'altro non semplicissimo anzi e quindi secondo me c'è un altro giocatore anche qui che ha fatto meglio di a cerbi eh però anche lui nei top assolutamente eh assolutamente sì perché comunque affrontavamo sulla carta uno dei migliori attacchi del campionato eh tra Lukaku, Dybala e e anche Sharao i pellegrini che si alzava quindi molto molto bene eh per me però devo dire stasera bastoni meglio secondo me stasera bastoni meglio eh perché nel primo tempo è rimasto un pochino più bloccato eh però nel secondo tempo è stato veramente impressionante sia in fase difensiva che poi nell'andare a trovare il gol nel trovare il gol eh diciamo che è il coronamento di una prestazione molto 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 importante ti dirò che forse lo metterei addirittura addirittura sopra Sommer probabilmente eh però eh in chat vi vedo molto caldi sul voto a bastoni bastoni mi è piaciuto molto quindi top meritato finalmente trovo anche il gol e siete tutti d'accordo nel dargli un voto molto alto andiamo ai centrocampisti partiamo eh da Darmian a destra Darmian eh diciamo che comunque la combinazione con Pavard sembra funzionare c'è qualche responsabilità anche da parte sua nel gol di Asharagui secondo me quindi non è in un periodo brillantissimo però poi serve anche l'assist quindi è un assist importante per il gol di Turam e quindi va anzi poi nel secondo tempo Darmian si è proposto molto in avanti eh l'ho visto l'ho visto crescere molto in avanti quindi il secondo tempo dal mio punto di vista riporta Darmian sull'ok eh però spero che che Dunfris possa dargli il cambio eh presto e possa tornare il il vero Dunfris da quella parte sarebbe molto importante quindi dai l'ok no più di ok no ragazzi più di ok no è un ok che che strappa perché è Darmian non completamente pieno seconda Barella 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 che in alcuni momenti rischiava anche lui di farsi attrarre in una partita che la Roma stava sporcando con proteste e falli tra l'altro prestazione dell'arbitro guida secondo me assolutamente da rivedere e Barella secondo me è quello che a centrocampo ha un po' ha un po' sofferto di più forse nel primo tempo probabilmente eh però poi no Barella io lo metto sopra Cialanoglu per quella che è stata la partita e quindi Barella l'ho visto poi correre soprattutto nel secondo tempo e ha fatto è stato sempre importante nell'andare a in molte occasioni a raddoppiare su Michitari hanno andato diciamo a sovraccaricare dei lati della Roma per cercare di favorire gli inserimenti e ha avuto un'occasione anche per andare al tiro dove forse forse rischia anche di conquistarsi un calcio di rigore in realtà e poi da quel bel passaggio filtrante per Darmian che fa l'assist a Turam quindi da lì comincia a crescere la partita di Barella e dai mi state mettendo a metà no rimandato no ragazzi rimandato Barella non esiste ok un ok pieno lo metto appena sotto il top secondo me e Cialanoglu per esempio io lo metterai leggermente sotto stasera lo metterai leggermente sotto perché Ciala quei movimenti di Barella ad accentrarsi quegli inserimenti anche dei pellegrini lì un po' di filtro lo abbiamo perso ha perso qualche c'è stato qualche errore tecnico che da lui vediamo raramente c'è da dire di sicuro è stato uno dei giocatori più condizionati secondo me dal campo in questa partita un giocatore di grande qualità non me la sento di rimandarlo sinceramente in una partita così mi sembra un pochino troppo eh però ha sbagliato parecchio ehm e e ha risentito un po' del campo sicuramente però la chat mi spinge sull'ok quindi l'ok andiamo a prendere Cialanoglu dov'è? Oh mi sono ecco mi sono perso Ciala ok per Ciala ha visto anche il risultato poi eh Mkhitaryan Mkhitaryan ragazzi fa una partita in cui nonostante il campo fino al io fino all'ottantesimo l'ho visto correre sulla fascia arrivare sul fondo veramente a livello di polmoni è stato preziosissimo in una maniera impressionante ehm sicuramente quindi Mkhitaryan solita prestazione di grande importanza ehm anche difensivamente ha dato la sua mano eh non è stato non è stata forse la sua partita in cui me lo ricordo eh di più per interventi l'ho visto anche meglio forse con eh con la Juventus in termini di interventi difensivi però anche oggi il lavoro di Mkhitaryan poi sentiva un po' eh forse la gara da ex sicuramente molto importante Mkhitaryan credo sia stato anche per numeri il miglior giocatore per palloni recuperati nell'Inter solo ehm solo bastoni ne ha recuperati cinque come lui quindi eh lo metto il primo degli ok miglior centrocampista dei tre lì in mezzo secondo me il motorino il treno Mkhitaryan treno Mkhitaryan di Marco a sinistra di Marco allora lui fa è quello che crea il primo pericolo perché fa quel traversone per Pavard e ha avuto una buona occasione ehm io mi dispiace che Di Marco ha delle doti tecniche impressionanti per cui alcuni errori da parte sua come quelli che ho visto stasera non me ne aspetto soprattutto in arte rigore oggi avrebbe avuto spesso l'occasione anche di centrare la porta e e di far meglio e rimandato la chat mi mi vota Di Marco sul rimandato per il piede che ha alcune situazioni le può gestire sicuramente meglio in attacco partiamo da Lautaro Martinez Lautaro oggi chiaramente è finito un pochino più in ombra eh nei all'inizio i duelli con Mancini li vince Mancini poi eh si cambia di abito e comincia ad aiutare di più e comincia a a spingere di più anche sui palloni recuperati nel secondo tempo cresce un po' come tutta l'Inter quindi si fa più uomo squadra e si fa più eh anche lottatore ecco quindi è stato molto utile in quel senso lì no top no ragazzi sul top per me è un po' alto per me il voto sarebbe un sei come come voto quindi è una sufficienza efficienza perché nella partita in cui non segna comunque ci mette eh ci mette una mano fondamentale nel nell'andare a riprendersi un centrocampo in cui l'Inter nel primo tempo aveva sofferto quindi così Turam ragazzi che gli vuoi dire Turam si prende inevitabilmente l'MVP secondo me inevitabilmente si prende l'MVP Turam perché nel primo tempo l'avevo sottolineato l'ho detto in diretta nel primo tempo non stava facendo bene ma anche perché mancavano i rifornimenti era un pochino isolato la Roma schiacciata e e stava avendo delle difficoltà secondo tempo con l'Inter che riesce a stanare un po' la Roma allunga la squadra eh dal primo istante del secondo tempo è quello che ho visto più ehm più con garra o comunque che l'ho visto subito dentro la partita sicuramente il discorso che hanno fatto all'intervallo è servito in particolar modo a lui e piazza la zampata che firma il due a due quindi già lì indirizza subito la partita in avvio di ripresa e poi condiziona l'autogol anche di anche Ligno come aveva fatto contro la Juventus eh io dico che per come è stata tutta la prestazione a me bastoni è quello che è piaciuto più di tutti per come ha inciso sulla partita eh Turam si prende l'MVP per come ha indirizzato la gara io la interpreto così quindi bravissimo bravissimo Marcus eh andiamo alla panchina panchina da cui è subentrato uno Stefan De Vrij al posto di Acervi a me ragazzi De Vrij al posto di Acervi come è entrato è piaciuto molto ve lo dico subito è entrato subito con personalità è entrato a forte è a freddo scusate sto leggendo un messaggio e De Vrij è entrato a freddo e ha cancellato anche lui Lukaku poi fa una lettura subito dopo trenta secondi da cui è entrato è veramente importante e a me è piaciuto molto è piaciuto molto quindi dispiace per l'infortunio di Acervi però De Vrij ha dimostrato ancora una volta che può sostituirlo e quindi si prende un top anche lui per me se lo merita poi ehm Arnatovic ragazzi che dite Arnatovic è entrato bene ehm anche oggi era una partita che poteva diciamo incastrarsi con le sue caratteristiche e ha sbagliato un paio di lanci uno che l'abbiamo commentato ci abbiamo riso su però cresce si è guadagnato un paio di calci di punizione importanti eh serve l'assist a bastoni ha permesso comunque di chiudere la partita quindi non so se top forse è troppo rispetto agli altri ehm però è un ok alto comunque ha giocato gli ultimi venti minuti di fatto quindi il voto sicuramente lo prende Arnatovic lo dai top mi sembra elevato forse ecco mettiamo Michitalian lo alzo nel top e Arnatovic lo metto lo metto alto secondo me eh Alexis Alexis francamente non l'ho notato tantissimo cioè ehm è entrato dai ha gestito il pallone con con la classe di un giocatore comunque di esperienza si è visto che in un momento delicato della partita lui ha comunque un'esperienza qualcosa in più in termini di esperienza rispetto agli altri quindi ha gestito il pallone con calma ehm pur avendo giocato pochi minuti tendenzialmente diamo il senza voto però vista la pesantezza della partita eh Sanchez l'ok se lo può prendere e poi Carlos Augusto Carlos Augusto ha dato ancora una volta dimostrazione che quel ruolo lì a sinistra in fase difensiva lo può far male eh lo può far meglio di Di Marco è stato molto prezioso il ripiegamento con un paio di interventi anche di testa eh positivi quindi Carlos Augusto non andrei oltre l'ok però il tempo di strapparsi in ok soprattutto per l'aiuto in fase difensiva secondo me se lo prende mi piace come entra in campo quando eh ci sono questi momenti delicati eh Dumfries dall'altra parte eh Dumfries meglio con la Juventus secondo me per come entrato in campo però ehm beh che vuoi dire nel senso non è stata una prestazione clamorosa non è stata una prestazione clamorosa però eh devo dire che mi è parso in fiducia quando ha fatto quella giocata doveva a cercare di buttarsi in avanti in mezzo a quattro avversari vuol dire che sei in fiducia quindi è un buon segnale non ha sbagliato nulla almeno per quello che mi ricordo eh ha fatto monire Oisen con l'intervento quindi mi è piaciuto tutti quelli che sono subentrati di sicuro non hanno peggiorato il rendimento eh di chi di chi hanno sostituito quindi eh servivano anche forze fresche in quel momento della partita per cui promosso anche lui e per la panchina voto ad in zaghi ma eh in panchina c'era Farris ehm diciamo che questa sera più che mai nel voto all'allenatore io darei un voto alla squadra sinceramente e nel dare il voto all'allenatore quindi un voto alla squadra io stasera lo metto sarebbe da mettere MVP sinceramente sarebbe da mettere MVP forse lo metto primo dei top perché su un campo lo abbiamo ripetuto mille volte un campo difficilissimo per quanto riguarda la pioggia campo pesante eh mi interrogavo prima forse dovremmo essere in grado di giocare queste partite anche in modo diverso e e invece l'Inter la gioca alla sua maniera la va a dominare la va a stravincere ribalta nel secondo tempo la Roma l'Inter nel secondo tempo vince tre a zero a Roma sul campo della Roma che arrivava a tre vittorie consecutive quindi voto voto elevatissimo dai vi accontento la richiesta della chat con MVP anche per per l'allenatore quindi per la squadra e ringraziamo anche mi 1970 per l'abbonamento su Twitch grazie mille mi per il grande supporto con l'abbonamento chiudiamo allora qua eh l'Inter no secondo me si merita l'MVP perché a fine primo tempo leggendo anche la chat leggevo una quantità di commenti che facevano presagire una disperazione per cui ho pensato se gli allenatori se l'Inter in quel momento lì sta reagendo come reagisce la chat siamo finiti straperdiamo questa partita eh partono le sostituzioni quelle ad alta tensione eh all'intervallo e invece non dobbiamo perdere la testa non dobbiamo perdere la testa assolutamente bisogna tornare in campo e e vincerla e così è stato formazione solita niente turnover cambi tardivi eh mi dispiace studio eh lo so che sei via ad aspettare l'errore da partite e partite sette vittorie consecutive ancora una volta ha avuto ragione l'Inter ha avuto ragione l'allenatore la stanchezza sinceramente non l'ho vista nel momento in cui l'Inter nel secondo tempo su un campo difficilissimo viene fuori in maniera dominante e fa ripeto tre a zero alla Roma altro che stanchezza ho visto un Inter straripante chiudiamo qui allora con le pagelle con i voti e fatemi sapere se siete d'accordo mi raccomando vi ricordo che potete votare sempre insieme a noi dopo la partita e se volete potete sostenere il nostro progetto su passioni inter punto club entrando a far parte della nostra grande community di interisti grazie a tutti